Va bene, Ida, non lo so, ero io quello steppiato. No, va bene, dai cosa, non va bene, perché non c'è stato un vero e nostro bacio sentito come ci siamo sempre baciati noi. Cioè, forse ci dovresti dettagliare com'è il tuo bacio passionale, così capiamo qual è quello per lei, cioè ci spieghi tecnicamente come lo fai. Io davvero non ti sto capendo. Ma come mi stai capendo? Davanti all'ingresso della stazione, Ida. No, tu mi hai fatto così, guarda come mi hai fatto. Questo è un bacio. No, 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 te lo faccio vedere io, posso fare così? No. E poi sei partita. Non è successo, non è successo. E poi è partita, ha preso il treno. E poi è partita, ha preso il treno. Grazie a tutti